SafeGate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito, safegatepro.com Cari amici, bentornati all'appuntamento con il meteo di TV6. Un blando fronte perturbato atlantico, pian piano si muove verso est, raggiungerà l'Italia, porterà qualche nube e qualche debole pioggia, però nulla di particolarmente rilevante. La perturbazione più intensa, più organizzata e presente ancora in pieno atlantico raggiungerà l'Italia ad inizio prossima settimana, dove porterà un importante peggioramento delle condizioni meteorologiche. Per quanto riguarda questo sabato, una leggera instabilità coinvolgerà il centro e il sud. In Abruzzo tante nubi, qualche fenomeno molto debole presente sul vastese, sulle coste meridionali e anche nelle aree interne, con qualche fiocco di neve oltre mille metri di quota. Parliamo di fenomeni molto, molto deboli e disorganizzati. Poi in serata, rapido miglioramento del tempo, altrove tante nubi, però pochi fenomeni direi del tutto assenti. Le temperature in calo, massime tra i 5 e i 10 gradi, millime tra 1 e 8 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Safegate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visite il nostro sito.